Tutto pronto per la decima edizione di Cala Lenta, la manifestazione che unisce i comuni della Costa dei Trabocchi, ideata ed organizzata da Slow Food Lanciano con la partecipazione della Camera di Commercio di Chieti Pescara, il sostegno del flag Costa dei Trabocchi, Gal Maiella Verde, Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, Lega Ambiente, Comune di San Vito Chietino e con la collaborazione di Biper, Gal Costa dei Trabocchi e Istituto Alberghiero Marchitelli di Villa Santa Maria, che tornerà ad animare uno dei litorali abruzzesi più suggestivi da venerdì 5 a domenica 7 luglio. Partner diversi per un progetto comune che unisce cultura, storia e gastronomia e che da un lato vuole raccontare un territorio e dall'altro sottolinearne le microeconomie ed un paesaggio da conservare e salvaguardare. Articolato il programma con attività previste in contemporanea nei principali centri del litorale teatino, da Ortona fino a Vasto, passando per San Vito Chietino, cuore della manifestazione, dove si alterneranno incontri itinerari e laboratori del gusto, presentazioni di libri, dibattiti, attività per bambini e ragazzi. C'è soprattutto questo dato importante, mai un mare adriatico, mai un mare così pulito, gli ultimi dati di Arta mi sembra che sono più che confortanti, quindi presentiamo una manifestazione che è enogastronomia, ma soprattutto enogastronomia all'interno della costa e quindi coinvolge il mare, coinvolge il nostro pesce, il nostro meraviglioso pesce azzurro. Quello che vogliamo dimostrare è che oggi i nostri turisti che vengono trovano un Abruzzo accogliente, ma un Abruzzo che ha tutte le qualità, dal mare pulito all'aria pulita, ad una sostenibilità che credono a nulla da invidiare rispetto ad altri.